allora ci siamo allora io dico solo due cose e poi vi faccio parlare primo vi faccio vedere sempre grandi film non l'ha scelto ivan il punto è questo grazie prego eva sempre volentieri e poi io scusate ma io sono contenta che la regista è stata brava ed è una donna ed è una nera ed è bellissimo la protagonista di watchman sì 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 voglio sentire costanza costanza stai piangendo come al solito un pochino forse prima potrei aver pianto forse esatto forse no comunque secondo me è meraviglioso come vi dicevo anche l'altra sera io sono a me piacciono molto i film quelli che praticamente vengono retti in piedi dal agli attori sostanzialmente cioè dalle dalle grandi performance recitative che sono il fulcro del film e questo secondo me è uno di quelli perché comunque tutta la sequenza è la sequenza dove sono nella stanza lì sono loro e altro proprio però tra l'altro il film è tratto da una pista teatrale infatti la prima volta che l'ho visto non lo sapevo e ho detto questo è teatrale infatti poi mi sono informata e ho saputo questo insomma no infatti proprio teatro tutta quella parte a me è piaciuta veramente tanto anche il pensare se questi quattro si fossero incontrati davvero sarebbe andata così sarebbe andata diversamente secondo me è anche è anche carino pensarci però io veramente sono stata rapita dagli attori e mi ripeterò probabilmente e ivan dirà che sono rompiscatole però io probabilmente lo riguarderò in inglese no no puoi fare perché secondo me il cinema in questo film è praticamente assente la regia non c'è ma è giusto così allora io sciorba qua sono un po per il tuo partito è un po no io io sono dell'idea che qua il punto forte del della del film sia la regia e l'ha messa in scena come è stato messo perché si vede che è un'opera teatrale la pista teatrale però è stata registicamente messa messa giù bene questo non c'è nulla da dire nulla da dire il film non funziona cioè non posso dire che non funziona il film funziona però parte lento c'è parte con ci vuole un po di 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 tempo per farlo ingranare un pochettino dalla seconda parte in poi cioè quando litigano malcolm x e e sam cook fuori fuori dalla stanza la scena bellissima da lì parte veramente il film con quel mordente che piace a me prima la parte prima l'ho trovato un po un po prolisso un po lungo da digerire però però non lo boccio completamente la regia dopo quando torno nella stanza è fantastica cioè io sono dell'idea che promuovo assolutamente la regia la narrazione ovviamente è semplice seppur c'è un dialogo fra fra quattro è una situazione che che prende a cuore però sono contento dai non diciamo che non è un grandissimo film ma non è neanche una ciofeca io voglio io riguardo alla regia volevo dire a shon ma che secondo me non è vero che la regia non ci sia è semplicemente una regia più teatrale a cui noi non siamo magari abituati in tanti altri film che vediamo ma questo non vuol dire che la regia non ci sia secondo me per lui è un 8 ecco io sono un po più restivo io da un 7 un 7 a questo film seppur sia sia messo messo giù benissimo io non ho nulla da dire però per me ci vuole un po farlo partire almeno per i miei gusti quindi che è piaciuto di più da gente il man ivan si dei vuoi dire qualcosa allora per me questo è un grande film capisco che possa apparire lento all'inizio ma è la storia di quattro ragazzi di quattro uomini che sono famosi ma ce li fanno vedere normalissimi si si la serata tipica che tutti noi abbiamo vissuto per prepararci andare in qualche posto oppure capita una sera in cui eravamo con amici sul divano e basta ok quindi per me io capisco che possa sembrare lenta probabilmente lo è non lo so però è funzionale deve essere così la regia non è non ne capisco niente quindi non lo so non è che posso dire avete ragione avete torto non lo so non ne capisco niente poi quando da quando hanno fatto sentire il pezzo di bob dylan il film esploso è un'altra cosa bellissima di questo film che può aprire dei dibattiti infiniti e ogni volta che parlava un personaggio verso un altro il doppiaggio stupendo stupendo il doppiaggio e ogni volta che ora ogni volta che parlava un personaggio gli davi ragione perché il punto di vista di questo personaggio era assolutamente credibile anche se quindi questo mai mai lo dico quindi questo è stupendo cioè a me è piaciuto tantissimo e fa vedere come nella società quattro persone famose che sembravano integrate agli occhi dei più distratti o malcom hicks nella politica in senso lato due personaggi dello sport uno della musica e ne abbiamo queste sfaccettature e non dico sfaccettature a caso proprio sono facce di un dado e ognuno ha la sua verità e ognuno può insegnare agli altri e apprendere dagli altri in questo momento storico visto che questo è un film di quest'anno dell'anno scorso è una pietra che va buttata nello stagno e forma le sue onde quindi per me è ultra promosso è girato in periodo della pandemia giusto questo 2020 aspettato un attimo ci guardo sì sì è fuori concorso è stato presentato alla festa della di venezia cinema di venezia sì credo che sia stavo guardando se riuscivo a vedere tra l'altro il budget è di ho visto 16 17 milioni quindi è un budget risicato cioè non è e non è un film da alto budget si vede volevo vedere il quanto è stato quanto è stato girato intanto intanto che ivan cerca dico ancora una cosa sul punto doppiaggio io prima ho detto che sicuramente rivedrò questo film in lingua originale perché io sono convinta ma questa è una mia personalissima opinione che per valutare al cento per cento la recitazione di un attore bisogna guardarlo nella lingua in cui è stata recitata non esattamente l'inglese ma questo ripeto è una mia personalissima opinione però però per quanto riguarda il doppiaggio di questo film è fatto bene cioè a volte tu vedi delle delle voci magari dei doppiatori che non lo so in qualche modo stonano nel contesto magari stonano con le voci degli attori originali adesso non ho in testa le voci originali di tutti però in questo caso sono d'accordo con voi comunque sul doppiaggio che non stonava niente cioè è doppiato molto bene si si è doppiato molto bene comunque confermo che è stato iniziato a girare cos'è sto casino è stato iniziato le riprese sono iniziato a gennaio 2020 quindi credo che sono arrivate il limite della 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 pandemia quindi verso marzo aprile credo che abbiano finito che dopo hanno chiuso tra l'altro sono partiti un po' più più tardi di noi quindi secondo me sono arrivati proprio il limite a girare questo film rox vai te allora intanto vabbè dopo dico una cosa sciogna perché ho letto si si va bene allora e no vabbè per me questo film è meraviglioso e io lo reputo anche più alto di 8 non mi sbilancio sul 9 ma quasi e per me la regia è molto molto buona perché non è invasiva non è è fatta bene perché lascia l'interpretazione chiaramente rispetta il fatto che è tratto da un'opera teatrale quindi molte scene sono girate come se fossero sul palco esattamente questo i dialoghi fra uno e l'altro sì sì ma anche se guardate uno scusare interrotto no no vai no dico anche come se c'è durante i dialoghi come sono proprio posizionati anche nella scena tutti sembra proprio come se fossero sul palco esattamente c'è nessuno che si mette davanti ad un altro che si vede sì sì sono d'accordo sono d'accordo ma ha dato il movimento alla scena con gli inserti degli esterni no che probabilmente nell'opera teatrale non ci sono magari sarà interpretato in un altro modo non lo so però è chiaramente per spezzare se no veramente sarebbe sarebbe stato troppo monotono il film e ha messo gli inserti quello che canta sul palco che ne so malcom x che parla con la moglie ci ha messo questi esterni ogni tanto per dare un po di movimento alla scena io non ho trovato la prima parte lenta assolutamente l'ho trovata un crescendo e secondo me è una delle parti più belle del film sono proprio i primi dieci minuti quando presentano i personaggi perché la presentazione dei personaggi è fatta con pochi tratti eppure ti identificano ogni profilo in un modo preciso e perfetto direi per me la scena più bella in assoluto è quando jim brown mi pare insomma comunque il giocatore di football va a casa di quello proprio all'inizio che c'è il bianco che gli fa tutta quella manfrida no perché tutta la babba quanto sei bravo ma io sono così orgoglioso perché tu non è no però noi neri dentro casa non li facciamo entrare cioè quello è una una modalità di esprimere che cos'è il razzismo ma anche a noi che chiaramente non l'abbiamo sopportato sulla nostra pelle ma è un modo meraviglioso di spiegarti che cos'è il razzismo che non è solo insultare il nero o dire male del nero o picchiare il nero è quella la forma più subdola del razzismo esatto secondo me è quella una cosa meravigliosa quella scena secondo me è molto bello va bene le scene che mi sono piaciute è molto molto bello quell'inserto con la canzone di dylan se no morella volevo sentire te appunto primo ho avuto problemi di frizione ma questa volta era colpa della mia linea che è tutto il giorno che va che viene quindi per per apprezzarlo al meglio dovrò di sicuro riguardarlo comunque mi è piaciuto in generale come è stata trattata la tematica perché sono state messe in evidenza sia le luci che le ombre e questo per me veramente ammirevole se non sposa una teoria una tesi e la porta avanti senza contraddittorio lascia lo spettatore davanti a un davanti a una situazione che deve da solo riuscire a districare e a giudicare l'impostazione da psa tale mi è stesuta perché non rimane completamente statica come potrebbe essere la ripresa di un di un palco scenico ma nello stesso tempo rimane composta e quindi questo lo trovo un pregio anche se per qualcuno potrebbe non esserlo però per me è un pregio il fatto che l'impostazione teatrale rimanga ma non sia completamente immobilizzata come come può avvenire in altri casi le interpretazioni sono sicuramente ottime non credo che un film del genere avrebbe potuto trasmettere le stesse sensazioni e anche colpire colpire l'intelletto di chi lo guarda se le interpretazioni non fossero state di un certo livello perché sicuramente avrebbe potuto connegliare o non non trasmettere appieno la forza anche dei contrasti che ci sono tra i personaggi direi di aver esaurito ecco quello che bene bene da profana di campo di cinema bene poi è molto molto interessante perché i dialoghi sono scritti benissimo cioè la scrittura è favolosa ed è molto interessante il modo in cui trattano appunto il tema raziale in modo profondo ma allo stesso tempo delicato e come ha detto morella mostrando anche tutte le sfaccettature bellissimo il dialogo quando dice ma tu siccome sei bianco cioè c'è la pelle più bianca della mia allora pensi di essere perché anche tra di loro ci sono differenze anche questo è molto molto interessante io ho trovato molto interessante il discorso accennato sull'islam e il modo diverso in cui viene visto ho trovato molto interessante vero sì e io quello che ho notato che per un gran parte del film sembra che il razzista sia quasi Malcolm X verso i bianchi perché lui è veramente estremista esatto e infatti anche Sam Cook sta quasi per accusarlo di cioè lui difende tanto cioè lui critica tanto i bianchi ma sta facendo la stessa cosa più o meno e sì e questa cosa mi è piaciuta molto questa cosa mi è piaciuta molto sembra quasi un po il vignan marco mix in questa questa in questa opera perché fanno vedere si fanno vedere le varie facce e le varie facce e non e non le edulcorano cioè marco mix e te lo fanno vedere come era un estremista aveva delle idee giuste e sbagliate non entro nel merito di questo sì ma sicuramente estreme esatto e te lo mostrano esatto però sì il problema mio che a mio parere personale è che il film non parte con quel bordente che avrei cioè non è stato come un processo chicago 7 che seppur sia più o meno su questo tipo di stampo c'è questa aula di tribunale comunque luogo chiuso c'è poca azione comunque molto parlato sia partito con un con una marcia in più questo per me per quanto mi riguarda per i miei gusti questo ci ha messo più tempo a partire cioè dalla seconda parte in poi però io è tutto un buon film però ivan se provo a farti cambiare idea magari non ci riesco ovviamente ti dico questo il film a un certo punto rivela quello che è stato fino a un certo punto fino a quel punto lì ovvero quattro persone che si guardano in faccia si dicono come la canzone gino paoli quattro amici al bar che volevano che volevano cambiare il mondo però si guardano in faccia si ma io strempello sì ma io gioco a football io tiro pugni non è che possiamo cambiare il mondo hai visto fino a dieci minuti fa che noia le nostre vite si normalissime quello campione di tutto quell'altro campione di questo quello campione quello però erano uomini normalissime normale non dentro fra quelle sono normale e la persona normale vive vive anche di momenti noiosi e lenti ovviamente ma anche le persone ricche che fanno qualsiasi cosa che fa una persona normale alla fine fine sì 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 secondo me è servito quell'introduzione così sì per farci capire che sono comunque persone comuni oltre che a presentare i personaggi anche per farti per far scendere l'icona dal piedistallo e rendertelo umano esatto beh questo è un buon punto di lettura sicuramente valido però io sono resto della mia idea cioè non la cambio ma ci mancherebbe sì sì sì